Ecco il Mediterraneo, pieno di barconi, gommoni strabordanti di immigrati e nuove drammatiche tragedie. Save the Children ha raccolto poco fa la testimonianza di un nuovo naufragio. Alcuni profughi sbarcati a Catania hanno riferito di un incidente avvenuto prima dell'intervento dei soccorritori. Un gommone si sarebbe sgonfiato, forse per una esplosione, facendo finire male molte persone, circa 40 che hanno perso la vita. Sono in corso tutti gli accertamenti. Non sono passati neanche 15 giorni dalla più grande tragedia del mare con 700 vittime, che ecco ripresa una nuova ondata eccezionale di sbarchi, per dirla come il Viminale. Nei primi quattro mesi del 2015 gli arrivi sono aumentati del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, oltre 30.000. Qui siamo a Pozzallo. Tutti ascoltano le indicazioni per lo sbarco, seduti sul ponte, orecchie pronte a recepire tutto quello che serve per cominciare una nuova vita. Ma da dove? Da quale luogo di accoglienza? Dove verranno inviati questi profughi? Veneto, Toscana o Puglia? Il problema è vivissimo, tanto che ieri il Viminale, a cui spetta il coordinamento dell'accoglienza, ha diramato una circolare con una indicazione precisa. Ogni provincia italiana dovrà garantire almeno 80 posti per gli immigrati, con l'eccezione della sola Sicilia. Già ampiamente coinvolta, il 21% degli 80.000 immigrati presenti oggi sul territorio nazionale si trova, infatti, proprio qui. L'obiettivo è quello di poter contare questa settimana su un numero complessivo di letti che non sia inferiore agli 8.500, ma anche di riequilibrare le presenze tra le regioni del sud, maggiormente gravate dalle emergenze, e quelle del nord, specie le riottose come Lombardia, Veneto e Piemonte, meno coinvolte. Non basta aggiungere una decina di navi diverse da quelle italiane per risolvere l'emergenza dei migranti nel Mediterraneo, ha detto il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che ha sfidato l'Europa a un nuovo progetto di condivisione di maggiore responsabilità per far fronte al dramma migratorio, ma anche per dare respiro al progetto europeo. Altri arrivi sono avvenuti a Crotone, con una petroliera con 250 persone a bordo e tre corpi recuperati in mare, così come a Catania. Un porta-container ha salvato 194 persone e ha recuperato cinque vittime. A Salerno sono sbarcate nove donne in gravidanza avanzata, una sta avendo le doglie ed è stata ricoverata in ospedale. Erano compagne di viaggio della donna nigeriana, che due giorni fa stremata ha partorito in mare aperto dopo essere stata salvata dalla nave bettica della Marina Militare. Lei è sbarcata a Pozzallo ed ecco la foto della bimba, Francesca Marina, immagine della vita che vince su tutto.